Gli anthem sono composizioni tipiche della chiesa anglicana, spesso caratterizzati dalla ricchezza dei colori strumentali e dalla chiarezza della declamazione del testo sacro. Questo è uno dei più celebri fra i molti composti da Henry Purcell. Il testo di questo anthem è il medesimo che si trova nella seconda lettura di oggi e anche nell'antifona d'ingresso. D'altronde questa domenica è nota proprio con il nome di Gaudete, tratto a sua volta dall'antifona e che sottolinea la gioia all'avvicinarsi del Natale. Purcell utilizza l'introduzione strumentale di notevole ampiezza proprio per creare l'atmosfera di gioia e di letizia, di serenità e allo stesso tempo di intensità spirituale. Molti ascoltatori hanno ravvisato nella scrittura di Purcell un'allusione alle campane che stanno per festeggiare la nascita del Salvatore.